Ciao, come ti chiami? Gianluca Quanti anni hai? 23 Emanuele 17 anni Francesco Chiara Maria 16 Cosa fai nella vita? Attualmente lavoro, diciamo, in famiglia facendo badante per mio nonno Studi Cosa? Elettronico Frequanto il liceo classico Come mai hai deciso di partecipare a questo casting? Non ho mai provato a fare una cosa del genere in vita mia e c'è sempre la prima volta Perché voglio divertirmi? Per divertimento Per provare a divertirmi, fare nuove amicizie Che sport fai? Palestra Bodybuilding più che altro Finanzato? Sì Da quanto tempo? Da 11 mesi E la tua ragazza come prenderà questa notizia? Non lo so Come deve essere la tua donna ideale? Bionda Cioè magra Occhi azzurri Vabbè, diciamo Bella Uomo ideale come deve essere? È simpatico Occhi chiari È gentile Saludiamo molto a Fillerouge Ciao Ciao Fillerouge Ciao Fillerouge Ciao Fillerouge Ciao Fillerouge Ciao Fillerouge Ciao Fillerouge Grazie a tutti.